Davvero auguri di buon lavoro all'Istituto di Ortofonologia perché dalla vostra discussione potranno emergere proposte importanti per un governo che sta lavorando intensamente per migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto dei ragazzi con disturbi del comportamento o con problemi di disabilità e di autismo. Non solo c'è già stata ed è stata già approvata la legge sull'autismo, ma la legge 107, meglio conosciuta come la buona scuola, contiene un importante delega al governo sull'inclusione ed è lì che noi dobbiamo costruire quelle condizioni essenziali per non lasciare le famiglie dei ragazzi con disabilità sole di fronte ai problemi dei loro ragazzi. È lì che noi vogliamo costruire quei piani educativi individuali di cui devono essere responsabili gli insegnanti che accompagneranno le famiglie grazie a punti unici di accesso dove tutte le istituzioni, amministratori locali, scuole, pediatri e ASL sono chiamati a collaborare perché tutti, non uno di meno, possano davvero realizzare il proprio progetto di vita e questa è la cosa importante, dare l'opportunità a tutti i bambini e agli adolescenti di realizzare il proprio progetto di vita è questo che dà speranza non solo a queste famiglie e a questi ragazzi ma al paese intero. Gli insegnanti non saranno lasciati soli, è infatti stato appena varato un nuovo piano di formazione in servizio continua per i docenti che deve supportare tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, ad includere questi ragazzi nelle attività didattiche dando l'opportunità di superare i loro problemi. Come ci hanno detto i pediatri nell'audizione fatta al Senato della Repubblica sul disegno di legge 06 che oggi è una delega data al governo con la legge 107 per dotare tutto il paese di quei nidi di infanzia di quelle scuole di infanzia che sono così fondamentali in quell'età precoce 0-6 anni in cui si può intervenire per recuperare gli svantaggi di partenza quindi un altro progetto, un altro investimento importante che presto vedrà il nostro paese offrire maggiori opportunità a tutti, non uno di meno. Grazie. Grazie.